benvenuti allora inizia la conferenza di indagine su una storia d'amore di Gianluca Maria Tavarelli e io ho segnato qui se dimentico qualcuno magari poi si auto presenta così non non faccio brutte figure allora sono presenti Gianluca Maria Tavarelli il regista Alessio Vassallo e Barbara Giordano che sono i protagonisti Andrea Paris di Ascent Film Margherita Murolo di Along Samantha Antonicola della Rai dimentico qualcuno Rai Cinema scusate dimentico qualcuno no li ho detti tutti allora per parlare c'è il tasto centrale del microfono che avete davanti diventa rosso e significa che la voce magicamente si sente anche dall'altra parte allora inizio io come al solito e parlo subito con con Gianluca e scene da un matrimonio al tempo dei reality beh no non avevamo un'ambizione così alta diciamo volevamo fare soprattutto volevamo raccontare una coppia in maniera divertente prendendo in giro soprattutto il lato maschile il lato femminile in tutti i loro atteggiamenti forse soprattutto il lato maschile che ovviamente è quello che più mi rappresenta e l'idea iniziale era proprio quella insomma di prenderci un po in giro e di prendere in giro la coppia e soprattutto poi la coppia come oggi insomma che necessariamente cambiata rispetto a un tempo perché è travolta da social da instagram da facebook da immagini che devi trasmetterà all'esterno di te stesso di come stai di come vivi e poi mi piaceva l'idea soprattutto di raccontare una coppia di attori di attori vabbè perché sono le persone con le quali poi io alla fine della vita ho più a che fare perché per il mestiere che faccio ci vivo praticamente la gran parte dell'anno li conosco bene li guardo sempre con grande amore e tenerezza e ne sposo in qualche modo le enormi difficoltà che devono affrontare ecco io conosco tantissimi giovani attori bravissimi pieni di talento pieni di passione pieni di tutto che hanno enormi difficoltà rompere quel muro di invisibilità di silenzio di cose che li circonda e quindi mi interessava raccontare questo 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 tipo di problematica proiettata poi su due persone che stanno insieme che vivono quel quel tipo di problema insieme e questa era un po l'idea centrale ecco attraverso poi logi logi è raccontato attraverso un reality cioè poi ognuno di noi vive un suo reality quotidiano cioè c'è chi ci va proprio in televisione a raccontare i fatti propri a fare delle figure allucinanti e è un po poi tutti noi chi più chi meno nel proprio piccolo cerca di mediare la sua immagine attraverso i social e anche questo è un po una sorta di reality quotidiano all'acqua di rosa in cui però insomma tu fai vedere che sei alla festa che ti stai divertendo che sei felice che tutto va bene che hai fatto un film che ha un successo straordinario in realtà poi niente di tutto questo è vero no poi non so quanto quanto sia così limitato poi in realtà forse c'ha lo stesso tipo di valenza che è quello di guardarlo alla televisione tutti noi ne siamo travolti in qualche modo chi più chi meno insomma l'impressione che che una volta non avevamo no che tutti sono felici che tutti si stanno divertendo che tutti la sera sono alle feste sono tutti fidanzati sono tutti felici sono tutti contenti ce l'hai quotidianamente sotto gli occhi tu che invece magari sei a casa merda niente ti funziona e invece sono tutti a brindare da tutte le parti poi non è vero nella maggioranza dei casi però intanto è quella quello che ti viene come dire quotidianamente trasmesso e quello inevitabilmente non può non generare perlomeno un fastidio diciamo così ecco belle ragazze bellissime ovunque che una volta avevi la fortuna di non vedere no perché nella mia vita di ventenne ragazze belle ne vedevi una due all'università invece ora come apri un computer una cosa sei travolto da quella sensazione fallace che poi sia tutto facile sia tutto portato di mano sia tutto lì che ti aspetta mentre invece non ti aspetta nulla ma ti dà quella strana impressione che poi credo che generi anche nel la vita un forse una sofferenza un una difficoltà proprio del vivere ecco tutto questo abbiamo cercato di raccontarlo ma in una maniera divertente ecco senza farne un un trattato di sociologia ma divertendoci molto con alessio che poi conosco bene e conosco anche bene tutte le sue follie le abbiamo raccontate soprattutto con l'obiettivo di far ridere più che di far pensare poi alessio ormai è dedito alla scherma per cui lasciamo è vero o no allora qualcuno ha delle domande tenendo presente che abbiamo varie figure a parte i due protagonisti ma insomma c'è la produzione c'è tutto se qualcuno ha domande altrimenti attenzione vado io con le mie che sono banalissime perfetto grazie nome cognome così almeno impariamo a conoscerci tra l'altro io non mi sono neanche presentato prima Claudio De Pasqualis ma insomma abbastanza buongiorno Carlo D'Acquisto Cinecittà News un paio di domande primo se ha pensato come riferimento anche alla serie The Affair in cui si vedono la storia d'amore di due persone raccontata da due punti di vista diversi la storia cambia completamente un po' come nel racconto dei due durante il reality e poi perché ha scelto due attori siciliani perché ha deciso di dare quella impronta così anche del sud con una comicità che richiama molto quella di altri attori paermitani e siciliani grazie ma no De Affair serie meravigliosa non ho pensato nello specifico a quello ho pensato al fatto che in una coppia entrambi cioè se tu hai una persona con la quale hai passato cinque anni ognuno di noi ha dei momenti che sono importanti che è convinto che siano stati importanti per tutte e due e invece nel 99% dei casi sono stati importanti solo per te no? cioè io mi ricordo magari che è un momento bellissimo e lo condivido e quell'altra persona manco se lo ricorda non per cattiveria perché all'interno di un rapporto di coppia ognuno ha dei momenti che sono stati quelli simbolici importanti probabilmente per delle cose più tue e l'altra persona per l'altra persona la stessa cosa cioè dei momenti che sono stati molto belli molto importanti o anche molto tragici che invece tu nemmeno li ricordi quindi io credo che ognuno di noi del proprio rapporto abbia una visione che non coincide con quella dell'altro ma non per cattiveria né per niente di particolare perché penso che ognuno di noi ha una visione su quella cosa che è stato molto male quel giorno in cui tu alla fine non ti sembrava neanche granché oppure sei stato così felice e l'altra persona no quindi mi interessava raccontare questo cioè io credo che se tu prendi una coppia felice la metti in due stanze e fai raccontare a ognuno di loro la loro storia credo che difficilmente trovi delle grandi coincidenze credo che se poi lo metti insieme non so se ti sembrano la stessa storia e quindi mi interessava partire da questo e sugli attori siciliani ma devo dire perché questo film è nato un po con Alessio nel senso che Alessio lo conosco molto bene abbiamo fatto due stagioni di Montalbano siamo stati pure in vacanze insieme quindi conosco tutti i suoi lati estremamente divertenti ed estremamente unici e particolari poi andate a messa insieme no? andate a messa insieme? poi siamo andati a messa insieme tante volte però lui venne un giorno e mi disse sono vado a messa nel tal posto e gli dice ma che cazzo da fare a messa? per cui il fatto che lui fosse da subito centrale in questo racconto che avevamo voglia di far diventare un film in qualche modo ha portato poi dentro Barbara perché insomma ci interessava raccontare la storia pure di questi due attori fuori sede insomma e quindi ecco i due attori siciliani è nato così un po' anche perché poi alla fine ho lavorato molto in Sicilia e sono attori che conosco bene però un po' perché con Alessio è nato questo progetto da sempre di raccontare appunto in maniera vivace una storia d'amore domande? vado io allora chiedo ai due protagonisti Alessio Vassallo e Barbara Giordano se vi siete divertiti ad affrontare questi due ruoli oppure avete avuto anche momenti di perplessità perché voi prendete in giro in un certo senso in maniera anche così benevola la figura dell'attore dell'attrice e dell'attore quindi volevo sapere come avete affrontato questo ruolo chi inizia? Barbara? Alessio Alessio sì guarda io ti posso dire che ho faticato sicuramente più qui che con la scherma visto che mi citavi il film della scherma perché qui voi non voi abbiamo messo a nudo oltre che un'indagine di una storia d'amore abbiamo messo a nudo una storia d'amore e io oggi quando mi guardo allo specchio non vedo mai Alessio ma sono il risultato di tutte le storie importanti d'amore che ho avuto cioè non sono io cioè io sono la mia vita influenzata oggi Alessio ha 40 anni e Alessio perché è stato fidanzato 4 anni con 5 anni, 7 anni e il risultato è questo e questo risultato lo porto poi magari dentro una nuova storia d'amore noi siamo fatti degli altri e quindi a me poi io il film logicamente l'ho visto quello che mi ha colpito di più vabbè questa vena malinconica ai Tavarelli lui ce l'ha, è innata ma oltre appunto l'affetto con Gianluca veramente familiare perché oltre il giovane Montalbano siamo stati amici quindi ci siamo comunque raccontati tante cose insieme ed è un privilegio per un attore o regista potersi raccontare delle cose prima di iniziare un film ma quello che più mi ha colpito appunto è questa malinconia che c'è nel film perché metti veramente a nudo una storia d'amore e alcune cose che sembrano forse estreme non lo sono perché io conosco tante persone, tanti uomini che sono il nostro protagonista e spesso oggi magari si tende a trovare sempre una morale un lieto fine che da noi non c'è cioè è veramente un'analisi proprio cruda, nuda e cruda di una relazione perché spesso le relazioni come vengono poste all'esterno sono un po' quelle che noi raccontiamo sui social dove tutto ha un equilibrio, tutto va bene o ci sono dei momenti belli ma invece facevo l'esempio ieri ero in albergo ma sono visto il documentario di Ilari non vedevo l'ora e ragazzi ma è una roba assurda quello che gli è successo a questo cioè va oltre l'immaginazione quello che lei racconta perché nelle storie d'amore veramente accade di tutto e in più c'è il tema centrale che è quello della precarietà della precarietà lavorativa e spesso quando tu hai una precarietà lavorativa così prepotente anche i sentimenti ne risentono la precarietà diventa poi anche sentimentale perché quando fai fatica a pagare un affitto spesso ti addossi le colpe l'uno contro l'altro ma magari la colpa non è di nessuno dei due e poi c'è tutta la tematica del voler esserci e non essere ma dell'apparire dei social media che invece è molto interessante e forse sono più onesti alla fine i nostri due protagonisti che vanno in questa trasmissione un po' all'avventura mettendo a nudo se stessi anche perché c'è una realtà oggettivamente cambiata nel mondo dello spettacolo e quindi è inevitabile Barbara vuoi? Grazie Buongiorno Io voglio dire intanto che Gianluca si è approcciato alla categoria attoriale con un grandissimo amore e questo ha permesso a me ad Alessio di non difenderci cioè noi siamo stati accompagnati nella rivelazione delle frustrazioni di noi attori con grande rispetto perché è una categoria che soffre moltissimo mentre viene spesso raccontata come appunto attore da chi non fa questo lavoro evidentemente o attrice red carpet successo e invece non è assolutamente così così come i personaggi pubblici prima diventavano personaggi pubblici dopo avere esplorato e dimostrato il loro talento adesso accade molto spesso il contrario molto spesso ai provini si viene scelte o scelti a parità di bravura in base ai followers per esempio è una cosa reale e che quindi ti fa fare domande inevitabilmente diverse da quelle che ti facevi fino all'anno scorso in Accademia cioè no io l'ho fatta un po' di anni fa l'Accademia però intendo dire i protagonisti no e quindi del film no cioè i personaggi del film no quindi le domande che il film si pone riguardo all'attorialità sono molto molto pertinenti e molto reali appunto cioè investo in un corso di recitazione che mi fa imparare nuove tecniche oppure in una social media manager che mi fa avere 50.000 followers cioè sono molto reali così come molto reale è purtroppo l'interesse dei personaggi pubblici per i personaggi pubblici in base al loro vissuto molto più rispetto a quello che che sanno fare al loro talento e in questo appunto Gianluca è stato estremamente generoso nella nella scrittura Alessio estremamente autoironico è stato molto bello lavorare con loro perché mi sono sentita parte della stessa squadra no cioè noi tra l'altro noi siciliani siamo risaputamente persone molto permalose per cui lavorare sull'autoironia è stato estremamente catartico e liberatorio forse voi catanesi parla per te io ho avuto veramente questo continuo assillo di vassallo per essere catanese ma tu si sente che non sei di Palermo si sente è come se fosse un demerito invece che un grande un grande vantaggio però appunto no quindi no io non mi sono sentita non ho avuto frustrazione rispetto a questo perché appunto l'ho visto anzi come un atto di rivalsa della nostra categoria che pur con i suoi vezzi è una categoria molto provata dalle possibilità lavorative sempre più scarne e sempre più votate appunto all'apparire piuttosto che banalmente all'essere in attesa dell'intelligenza artificiale che ancora non è finita non ci siamo domande eccone salve Enrico Nicolosi CineDance e volevo chiedere dato che il film appunto mira a prendere in giro alcune categorie istituzioni eccetera eccetera e mi è perso molto interessante diciamo sfruttare questo meccanismo dei reality di questi programmi che in qualche maniera da tutti vengono visti come falsi diciamo farseschi costruiti super costruiti e vengono visti in maniera un po' appunto con uno snobbismo che si vede nei protagonisti sin dall'inizio però alla fine in qualche maniera ci cascano dentro in tutte le scarpe e in qualche maniera proprio grazie a questi programmi esce invece fuori la verità volevo chiedere in qualche maniera cosa pensava di questi programmi e del successo che hanno e se in qualche maniera sono in qualche maniera utili perché ci portano a a costruire questo dialogo diciamo continuo con la quotidianità con i rapporti eccetera cioè se in qualche maniera anche lei magari snobbava un po' questi programmi e per realtà contengono quantomeno nel rapporto che si crea con loro contengono in realtà più verità diciamo così ma guarda non so se ho sentito bene la domanda che ci sento benissimo però ma guarda dal punto di vista dell'attore credo che sia sicuramente una scorciatoia nel senso sia una cosa che ti aiuta cioè nel senso che Barbara per Alessio cioè il percorso che hanno dovuto fare è difficilissimo di venire i provini sperare che quello ti scelga e che poi faccia una guerra per te a fronte di altri magari che sono più famosi più conosciuti quindi il percorso da fare pulito è veramente complesso complicato sicuramente tu vai nel reale vai al grande fratello nel giro di una settimana raggiungi una notorietà che normalmente ci metteresti vent'anni poi sei più sei pure talentuoso e bravo magari riesci a sfangarla ma tanti attori insomma alla fine sono venuti poi dai reality e non dall'accademia poi ovviamente io personalmente trovo molto trovo molto strano che tu abbia voglia di andare a raccontare in pubblico pubblico la tua vita le tue cose e penso che ovviamente da quella cosa lì non esci più cioè io credo che chi va in un reality difficilmente quando esce ritrova il mondo che aveva lasciato prima di entrare nel senso che poi quello che dici e poi a dire non era vero l'ho detto per questo cioè comunque le cose le parole sono pietra diceva Levi credo e sono pietra ma lo sono anche nei rapporti interpersonali a telecamere spente cioè devi stare attento a quello che dici perché magari dici una cosa per far rabbia però intanto l'hai detta e credo che detta davanti a delle telecamere diventi poi difficile che quello che succede a loro insomma poi a loro quello che succede non è tanto quello che hai fatto fatto questo fatto quello vabbè poi tu decidi se accettarlo o meno e non sapere più che cosa è vero e che cosa è falso quello credo che sia il problema più difficile da affrontare che il tema proprio dei reali cioè perché poi non puoi neanche dire vabbè sai che c'è mi sta bene così e vabbè no non riesci più a distinguere finisci in una sabbia mobile nella quale è indistinguibile la verità dall'invenzione e credo che quello ti logori poi alla fine molto di più di una confessione reale per quanto possa essere faticosa da sopportare no questo non so se ho risposto alla domanda va bene parlate forte perché qua c'è gente che non sente benissimo abbiamo sette minuti altre domande allora vado io non perdiamo tempo allora passiamo all'aspetto produttivo che tipo di progetto è stata questa indagine chi risponde la produzione ma intanto diciamo che c'era un desiderio di Gianluca anche produttivo di fare un film che tornasse un po' come dire a a quelle diciamo di fare un piccolo film dal punto di vista produttivo proprio perché questo in qualche modo gli concedeva di essere anche più libero non solo da un punto di vista proprio da un punto di vista di tempi di modi di gestione di tutto quello che chiaramente che è un set più piccolo rispetto a un set più grande quindi già produttivamente siamo proprio partiti da questo assunto quindi diciamo che è stato un film infatti con tantissima tantissimo amore perché quando si torna a fare dei progetti come oggi se ne fanno pochi diciamo a mio avviso questa cosa si sente e si vede poi nel prodotto penso anche proprio come esperienza cioè al di là dell'esperienza produttiva penso anche è una cosa che abbiamo riscontrato anche proprio negli attori questo è un film che ha delle partecipazioni di un sacco di attori che sono venuti a fare delle piccole partecipazioni proprio per proprio perché c'è anche la presenza di Kim Rossi Stewart che poi c'è Silvia Gallerano c'è Andra Sartoretti ha rischiato la vita ha rischiato la vita sì quindi insomma proprio però credo che sia questo sia scaturito anche proprio dal tipo di film che stiamo facendo dal fatto che era proprio un famoso passion project e quindi credo che questo abbia avuto poi una cascata anche sul lavoro diciamo degli attori di Gianluca e Barba sì penso non so se ho risposto alla domanda sì sì assolutamente un'altra domanda temo sia l'ultima perché siamo a 25 anzi visto il tema più discusso negli ultimi giorni anche il fatto che oggi è il 25 novembre volevo chiedere agli attori dato che la loro coppia dei forti elementi di tossicità comunque evidenti la forte gelosia comunque sono un po' personaggi manipolatori come hanno vissuto il fatto di calarsi negli aspetti negativi dei loro personaggi non facile per niente questo per me è stato sicuramente l'aspetto più complesso ma per questo importante cioè non tutto è molto trovo da attrice e da attivista come mi sento di essere che sia importante sondare anche tutto tutto quello che non condividiamo per perché chi fa parte del problema si vede rappresentato e possa riconoscersi nella problematicità quindi lo trovo necessario personalmente è stato faticoso ma necessario e sono molto contenta che Lucia che il mio personaggio si sia liberata allora siamo agli sgoccioli io a questo punto faccio la domanda di Rito quando vedremo dove vedremo come vedremo questo film chi risponde sì quello centrale il tasto centrale ecco salve il film uscirà ancora una data non è stata fissata però uscirà il prossimo anno nel 2024 nel 2024 Rai Cinema vuole dire qualcosa Samantha ti vedo laggiù noi ringraziamo Rai Cinema assolutamente Rai Cinema dice che questo film come dice Tavarelli voleva anche essere un film un po' leggero spassoso un punto di vista su una storia d'amore contemporanea ovviamente visto quello che racconta e a noi ci ha incuriositi e ci è piaciuta la sceneggiatura anche perché poi al centro di tutto c'è questo tema dell'egocentrismo sfrenato dell'egotismo che è quello che il regista riesce a raccontare in modo scansonato perché poi alla fine non è solo il fatto di mettersi a nudo e di togliere i filtri dalla storia d'amore quindi che lo metti in pasto al pubblico e anche la competizione che c'è tra loro due che è molto divertente diventa un po' un gioco al massacro in alcuni momenti e del rapporto che le persone hanno con loro stessi della narrazione che ognuno di noi vuole fare di se stesso questa era la cosa in qualche modo più loro malgrado spiritosa e quindi questa cosa qui ci ha convinti ci è piaciuta vedendo il film lo vedrei no voi l'avete già visto ovviamente la malinconia aggiungo io secondo me sottolineata dagli intervalli in cui gli astri si allineano oppure non si allineano che un po' la vita è affidata al caso grazie un'ultimissima cosa che dico su questo film sul nostro mestiere che è ancora poi in fondo non lo sai se è un mestiere prezzolatissimo è ancora un mestiere che la gente fa per passione in tutti i settori per cui ancora un ambito nel quale tu vai e chiedi alle persone gli dici senti mi vieni a montare sta cosa stiamo facendo questo film abbiamo pochi soldi vengo magari il giorno prima aveva fatto il film che ne so americano di James Bond l'attore viene a farci sta cosa ma si vengo quindi alla fine è ancora un mondo nel quale la gente i professionisti anche più altolocati per passione per semplice passione si fanno coinvolgere da progetti nei quali capiscono che magari non si naviga nei soldi però hai bisogno di montare un airbag perché lui si e viene e te lo monta c'ha il locale strafigo che magari lo pagheresti 3000 euro al giorno però dice ma si dai vieni a girare domani te lo lascio per cui è ancora un mondo di gente che se necessario ti dà una mano e ti permette di portare a casa un film con poco ecco e meno male e meno male grazie 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 a tutti